Il movimento politico di minoranza, nuovamente torto, raguidato da Giovanni Pagano, in un comunicato diramato questa mattina, dinuncia l'inoperosità dell'amministrazione comunale della cittadina altotirrenica sul mancato completamento delle opere riguardante il rifacimento del manto stradale di diverse strade della cittadina. In particolare la nota si sofferma sul ritardo dei lavori in Viale Marconi, con relativa chiusura di una carreggiata e conseguente pericolo per gli automobilisti e pedoni, oltre alla impraticabilità di via Leonardo da Vinci, ancora in pessime condizioni di viabilità. Questi lavori già appaltati dalla precedente amministrazione Silvestri, continua la nota, con relativa copertura finanziaria con mutuo accesso con la Cassa Depositi e Prestiti, a distanza di un anno dall'insediamento della nuova giunta, tardono a partire, provocando danni e disagi all'intera collettività. Nella stessa nota il movimento politico inoltre sottolinea altri disservizi, uno di questi quello relativo al nome definitivo della società che dovrà gestire la raccolta rifiuti e la differenziata porta a porta. Nuovamente Tortora, dunque, chiede all'amministrazione tortorese spiegazioni sui ritardi di opere che ormai tardano a partire. Il sindaco Pasquale Lamboglia, interpellato sulla questione, si dice sorpreso del comunicato del gruppo di opposizione. Per sapere i motivi dei ritardi, dichiara, bastava chiedere all'ufficio tecnico del comune, dove sarebbe stato spiegato loro e a chiunque ne facesse richiesta, che il rallentamento dei lavori del rifacimento del manto stradale sono dovuti a motivi tecnici, in conseguenza ad una variante del progetto che la legge prevede. Variante, oltretutto, già approvata in giunta e a giorni riprenderanno i lavori. Per quanto riguarda l'avvio della raccolta differenziata porta a porta, si stanno espletando le ultime formalità di controllo sulla ditta che gestirà il servizio. Tempi tecnici, dunque, formalità burocratiche, obbligatorie che la legge richiede.